Ed eccomi qua con le top 5 riguardanti i miei 5 Pokémon preferiti per regione. Partiamo subito con la prima regione che è Yoto. A posizione numero 5 troviamo un Pokémon che ho già messo in parecchie top 5 che è Geridos. Questo serpentone acquatico cazzutissimo e potentissimo, soprattutto molto stuprato nel metagame della quarta generazione, lo adoro tantissimo. È veramente figo e soprattutto catturarlo Shiny al Lago d'Ira è un'emozione unica. Quinta posizione. Alla posizione numero 4 troviamo un leggendario, quale Mewtwo. Mewtwo l'ho sempre adorato come leggendario, più di Mew. Mi piaceva molto andare nella grotta celeste per poterlo catturare, per poterlo farlo mio. Completamente mio. E devo dire che di solito lo utilizzavo per poter battere la Lega in blu, rosso, giallo. Mettiamo anche verde, anche se non ce l'abbiamo qui in Italia, però non importa. Quindi la mia posizione numero 4 è dedicata a lui. Alla terza posizione troviamo un Pokémon fossile, quale è Aerodactyl. Aerodactyl è sempre stato bellissimo e l'ho adorato in quell'episodio dell'anime dove mi sembra lo trova in una grotta che quell'episodio mi aveva spaventato in modo particolarmente esagerato. Sì, perché ero ancora piccolo, picciotto, e quindi diciamo che mi aveva fatto cagare leggermente sotto. Ma adesso è adorabile come Pokémon. Molto. Alla seconda posizione, sorprendentemente, troviamo Porygon. Oh mio Dio, Porygon che non è in prima posizione. Sì, va bene che Porygon è il mio Pokémon preferito, ma non si è meritato la mia prima posizione. Ormai ho già detto tutto e tutto e tutto e di più su questo Pokémon, quindi mi sembra inutile poter dire qualcos'altro. Quindi ragazzi, seconda posizione per Porygon. E alla prima posizione invece troviamo Lapras. Lapras, sì, è sempre stato... Prima che arrivasse Porygon come un Pokémon preferito, c'era Lapras. Adoravo farmi dei viagioni mentali su avere un Lapras e poterlo utilizzare a mio piacimento. L'ho adorato quando si doveva andare a catturare solamente di venerdì nella grotta. O era mercoledì, mi sembra? No, venerdì se non sbaglio. Aspetta, però venerdì c'era anche Driflon. Non mi ricordo bene il giorno della settimana che c'era, ma per poter andarlo a prendere bisogna andare proprio quel precisissimo giorno. E non c'era altro modo per ottenerlo. O andavi quel giorno o te lo prendevi in Q. Dico nella seconda generazione, perché nella prima generazione ovviamente te lo dava il tizio alla Shioff. Quindi ragazzi, questi erano i miei cinque Pokémon della prima generazione che ovviamente ho adorato. Voi fatemi sapere la vostra, mettete la vostra Top 5 qui sotto. Quindi mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Ci rivediamo alla prossima Top 5 che è domani. Edit, io non sono a casa comunque in questi giorni, eh. Così qua li ho registrati il 16 di ottobre. Quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima Top 5, un saluto a Teo e ciao ciao!